il procuratore dovevo chiamare sono De Falco da Livorno, comandante si è il comandante, si guarda si buonasera comandante io sono De Falco da Livorno, parlo col comandante? si buonasera comandante di Falco mi dica il suo nome per favore sono il comandante Schettino Schettino? si ci sono persone intrappolate a bordo adesso lei va con la sua shalup sotto la prua della nave, lato dritto c'è una bilcagina lei sale su quella bilcagina e va a bordo della nave va a bordo della nave e mi viene a dire, mi riporta quante persone ci sono è chiaro? io sto registrando questa comunicazione comandante Schettino allora, comandante le dico una cosa parli a voce alta allora la nave adesso io sono qua di tutte comandante, parli a voce più alta metta la mano davanti al microfono e parla a voce alta chiaro? non c'è la sceluppa fanno venire un attimo fanno venire qua fanno venire qua fanno venire qua allora in questo momento la nave è inclinata ho capito c'è gente ascolti c'è gente che sta scendendo dalla biscagina di prua lei quella biscagina la percorre in senso inverso sale sulla nave e mi dice quante persone e che cosa hanno a bordo chiaro? gli dice se ci sono bambini donne o persone bisognose di assistenza e me ne dice il numero di ciascuna di queste categorie è chiaro? guardi Schettino che lei si è salvato forse dal mare ma io la porto veramente molto male le faccio passare l'anima di guai vado a bordo cazzo comandante per cortesia no per cortesia lei adesso prende e va a bordo mi assicuri che sta andando a bordo io sto andando qua con la lancia dei soccorsi sono sotto qua non sono andato da nessuna parte sono qua che sta facendo comandante? sto qua per coordinare i soccorsi che sta coordinando lì? vado a bordo mi coordini i soccorsi da bordo lei si rifiuta? no no non mi sto rifiutando lei si sta rifiutando di andare a bordo comandante? e mi dica qual è il motivo per cui non ci va ci sto andando perché ci sta l'altra lancia che si è fermata lei vada a bordo è un ordine lei non deve fare altre valutazioni lei ha ben chiarato l'abbandononave adesso comando io lei vada a bordo è chiaro? comandante? non mi sente? sto andando a bordo vada mi chiami immediatamente da bordo c'è il mio aerosoccorritore lì dove sta il tuo soccorritore? il mio soccorritore sta a prua avanti ci sono già dei cadaveri Schettino avanti quanti cadaveri ci sono? non lo so uno lo so uno l'ho sentito me lo devi dire lei quanti ce ne sono? Cristo ma ti rende conto che è buio che qua non vediamo noi? e che vuole tornare a casa Schettino? è buio? vuole tornare a casa? salga sulla prua della nave tramite la biscagina e mi dica cosa si può fare? quante persone ci sono? e che bisogno hanno? ora siamo andati sono il comandante in seconda come? siamo il comandante in seconda qui salite tutte e due allora tutte e due come si chiama il secondo? come si chiama il secondo? è Dimitri Dimitri cosa? Dimitri Cristiti lei è il suo secondo salite a bordo ora è chiaro? come dai? io voglio salire a bordo semplicemente che l'altra scelta qua ci sono gli altri soccorridori si è fermata si è fermata e si è tallaterina adesso il chiamato altri soccorridori lei è un'ora che mi sta dicendo questo adesso va a bordo va a bordo e mi viene a dire e mi viene subito a dire quante persone ci sono va bene comandante vada subito grazie a tutti